Amici del portapenne ben ritrovati per il nostro ennesimo appuntamento dove parleremo insieme, cioè io parlerò, voi sarete liberi e benvenuti nel commentare il video. Parleremo di uno strumento di scrittura e ovviamente di quello che ci permette di scrivere, ovvero dell'inchiostro. Parterei da quest'ultimo, nulla di nuovo ci mancherebbe, comunque andiamo a parlare abbinato alla penna stilografica di cui vedete già qualcosa tra le braccia del nostro cavaliere, di un eccellente inchiostro a mio avviso, un Pelican Edelstein nella colorazione Topaz. Di questo avrete già visto e consumato forse decine di video di youtuber molto affermati e capaci nel nostro ambito. Vabbè, comunque, insomma, visto che siamo qui, faccio anch'io una sorta di unboxing, ricordando che il calamaio di Edelstein è sicuramente pregevole, la quantità, se non ricordo male, è di 50 ml, che lo rende piuttosto, diciamo, interessante dal punto di vista della durata del calamaio, vedete, 50 ml. Va ricordato che il prodotto Edelstein è, diciamo, più raffinato dal punto di vista del pigmento rispetto agli eccellenti, comunque, prodotti di Pelican serie 4001, che hanno un prezzo diverso. Qui paghiamo sicuramente la qualità dell'inchiostro, paghiamo giustamente la capacità e la fattura del nostro calamaio. Andiamo a vedere qualche dettaglio, insomma, il tappo, per esempio, presenta il tipico logo di Pelican, mamma e piccolo di Pelicano, ed è a rilievo. È un bel tappo, quello di chiusura, che offre, appunto, una bocca sufficientemente, ampia per poter attingere fino alla fine al contenuto. Quindi, insomma, quando andiamo con il converter o con il nostro filler o con il nostro pistone a riempire il serbatoio della nostra stilografica, non abbiamo da tribolare. Sicuramente è un prodotto che si è acquistato bene. Io l'ho acquistato, per esempio, su Amazon durante le offerte dell'8 e 9 ottobre, ho risparmiato circa 3 euro sul prezzo abituale. Comunque, sono inchiostri che normalmente viaggiano tra i 16-17 euro e i 20-21 euro. Ecco, qualche volta di più, qualche volta di meno. Questo è il range medio in cui si possono acquistare questi inchiostri, tanto nel negozio fisico quanto nell'online. È chiaro che è più facile risparmiare nel negozio, nel commercio elettronico che nel negozio fisico, per motivi di cui non stiamo qui a ripetere all'infinito. È un bel colore il topaz, perché, come vedremo, è più carico del torquese, un bel blu, un blu vivace, un blu che a me personalmente soddisfa. E lo sono andato ad abbinare a una penna stilografica, diciamo che è uno dei grandi marchi dell'arte delle penne giapponese. Stiamo parlando, scusate, di una Sailor, un marchio importante. Come avviene spesso nei marchi giapponesi, non sono tutte uguali le penne giapponesi. Qui parliamo di un intri-level nell'ambito delle penne stilografiche con pennino in oro 14 carati, come lo presenta Pilot, come lo presenta Platinum. Ma ciascuna di queste case ha, secondo me, un proprio carattere. Parliamo non tanto della forma, della foggia, che insomma c'è poco da inventare, ma proprio della natura stessa, del comportamento dei pennini. Ma lo vediamo più avanti. Un'occhiata a questa penna. Che modello è? È appunto una Sailor, la serie è la 1911, anno di fondazione della casa. Il modello è la Profit Light. In questo caso realizzato in resina perlescente, chiamata Shining Blue. Quindi un fondo blu, un bel blu notte. Vediamo di farveli apprezzare, se possibile, con queste pagliuzze dorate. Quindi è un mix che si sposa molto bene, poi anche alla metalleria dorata, da cui sono rivestite appunto le metallerie. Quindi questa Sailor 1911 Profit Light, quindi diciamo una Profit appunto più economica, è anche piccolina, come vedremo come penna, non ha delle grandi dimensioni, però fa onestamente il suo dovere e dal mio punto di vista anche esteticamente bella. Andiamo a svitarlo, ovviamente il cappuccio è a vite e andiamo a rivelare appunto questo tipo di penna che, come vi dicevo, è piccola. Adesso vorrei fare un piccolo raffronto. Prendiamo, per capire di quali dimensioni stiamo parlando, prendiamo ad esempio una semplicissima Parker IM, togliendo il cappuccio ve la metto vicino. La Parker IM, vedete, è più grande, sia come dimensioni di canna e sezione, che poi viene, diciamo, accorciata complessivamente dal pennino che è un po' più tozzo, meno slanciato di quello del Sailor, però insomma vedete che c'è il centimetro che balla a favore della IM, è più grande. Vi prendo una penna cinese che sta avendo un buon successo perché ha un buon rapporto qualità-prezzo, è la Asvin, Asvine, è scritto V126, che vado ad aprire, togliere il cappuccio e qui vediamo, la metto di fianco, la Sailor, così capite anche se avete questa penna di quali dimensioni parliamo, beh vedete che qui il centimetro diventa proprio abbondante e soprattutto subito si percepisce una differenza nel calibro, cioè nel diametro stesso del fusto, è più grande l'Asvin 126. Quindi dicevo, rimettiamo a posto le altre penne oggetto del raffronto, abbiamo una penna di dimensioni generali contenute, però è una penna che scrive molto bene. Andiamo un attimo a vedere qualche altro dettaglio, ovviamente Sailor funziona con il sistema di caricamento cartuccia converter dove abbiamo entrambe le soluzioni proprietarie, quindi le cartucce devono essere quelle della Sailor oppure dovete riempirle con la classica siringa oppure acquistare, come ho fatto io, un converter proprietario, che secondo me rimane e resta la soluzione migliore per risparmiare, per avere anche più flessibilità nell'uso degli inchiostri, se ne abbiamo più di uno, come la maggior parte degli appassionati ha. Diamo un'occhiata, qui vediamo che la parte metallica della filettatura della sezione è in ottone dorato, va ad innestarsi direttamente nella resina, che non è una resina di grande spessore, attenzione, è di buona qualità sicuramente, ma non è di grande spessore, quindi sempre molta attenzione quando andiamo ad evitare a svitare, perché insomma sappiamo che queste filettature metallo su plastica, a lungo andare potrebbero macinare una filettatura in plastica, quindi molta molta attenzione, e magari di tanto in tanto una goccina di silicone o di lubrificante, un lubrificante che non intacchi la resina, questo è un suggerimento che banalmente mi sento di dare a tutti gli utilizzatori. Per il resto è una penna che, ripeto, è proprio corta, io non ho una mano gigantesca, appoggia bene nell'incavo, vedete, però sinceramente c'è una sezione molto corta, ecco il mio polpastrelli ci stanno al limite, si impugna bene perché è sottile come diametro, ma insomma non è una delle penne che da quel punto di vista personalmente mi soddisfa di più. Può essere invece molto indicata a coloro chiamano penne leggere, penne molto maneggevoli e che magari non hanno mani grandi. Ecco, questo può essere davvero un prodotto da consigliare a questi utenti. Come scrive la Sailor 1911 Profil Light? Prendiamo, come sto facendo negli ultimi tempi, questo piccolo notebook della Kokonote in versione Komorebi, quella di cui vi ho già parlato, insomma è stile giapponese. Lasciamo stare la scritta che ho che ho messo di qua perché non c'entra niente e andiamo a fare una brevissima, rapidissima prova di scrittura. Ricordando che siamo su il portapenne, chiedo scusa qui, sto facendo un po' di capriccetti. E oggi ci occupiamo della stilografica Sailor, la 1911 in versione Profit Light, leggera. Ed è veramente una penna leggera. La resina di cui è composta questa penna in mio possesso è denominata Shining Blue e il pennino è un fine medio. Ricordiamoci che le denominazioni, la classificazione dei pennini giapponesi, orientali in generale, sono leggermente più sottili come tratto rispetto a quello che possiamo denominare noi qui in Europa. Per cui insomma è una penna dal tratto decisamente fine. Non finissimo, non è un fine né un'extrafine nella denominazione giapponese, ma sappiamo che loro possono scendere molto rispetto a questo che è un tratto comunque piuttosto definito, che non lascia molto alla creatività neppure premendo leggermente sui rebbi. Vedete che il tratto rimane piuttosto uniforme. Vi faccio vedere che in reverse, ecco non c'è forse una generosità nell'alimentazione tale da rendere piacevole la scrittura in reverse, ma del resto insomma è un esperimento per capire anche come è rifinito il pennino e anche come lavora in abbinamento all'alimentatore che in questo caso è in ABS. Teniamo presente che l'inchiostro che io ho voluto testare su questa penna qui, un Pelican Eidersen, non è particolarmente bagnato. È fluido ma non particolarmente bagnato, per cui probabilmente, anzi mi sento di dire certamente, se avessi voluto testare su questa penna e fare la prova di scrittura, faccio un esempio, con un Pilot, l'inchiostro Pilot Hiro Shizuku. Sicuramente non ci sarebbe stata questa falsa partenza quando ho iniziato a scrivere, né qualche incertezza. Tenete presente che questa non è una carta super lavorata, liscia come può essere Rodia o Clairefontaine. È una carta, diciamo, meno pregiata, è un 80 grammi. A me piace come carta, ma lavora e dà il meglio con inchiostri, con alimentazioni, con gruppi scrittura, più generosi di quanto possa essere questa Sailor. Quindi stavo dicendo, probabilmente, abbinare l'inchiostro Pelican Eidersen alla Sailor 1911, oggetto della nostra prova, probabilmente non è la scelta migliore. Però è una valutazione soggettiva che non boccia né la penna né tantomeno l'inchiostro. Semplicemente un'analisi molto veloce rispetto a quello che stiamo scrivendo. Per il resto la penna si comporta come ci si aspetta da una penna giapponese. Quindi scrive bene, ripeto, vedete anche qua c'è una falsa partenza, ma mi sento di imputarlo appunto alla scelta dell'inchiostro e anche della carta. Se io adesso dovessi fare la prova e utilizzare una carta diversa, sono curioso di verlo con voi, ma credo che già con questa che è una Pepein Van der Rooyen, questa collezione Clonmonet, che non è una carta appreggiatissima ma è valida comunque, generalmente non crea problemi, secondo me dovrebbe già scorrere meglio. Anche in questo caso non è una carta super lavorata, però andiamo a vedere che cosa succede. Sono curioso con voi perché ancora non ho sperimentato neppure io questo. Vedete qui? E anche qui. Ecco, probabilmente, credo che a questo punto l'abbinamento con l'inchiostro non sia da consigliare, non sia da consigliare in abbinamento alla Pelican Edelstein perché vi posso garantire che ogni volta che ho utilizzato questa pene non ho mai avuto questi skipping, queste false partenze o questi mancamenti momentanei di inchiostro. Questo, ripeto, ancora non boccia il Pelican Edelstein che è e resta un ottimo inchiostro. Semplicemente non è l'abbinamento preferito, è preferibile per questo tipo di penna. So che la prova di scrittura potrebbe non soddisfarvi per quello che vedete e se guardassi anch'io senza averla mai provata diversamente probabilmente giungerei alle stesse considerazioni. però vi posso garantire che Sailor trasmette un feedback molto soft alla scrittura. Qui c'è proprio un problema di alimentazione che, ripeto, non ho mai ottenuto o avuto riscontrato con altri tipi di inchiostro. Quindi, insomma, mi sento proprio di sconsigliarvi di provare la penna con questo inchiostro. Non mi sento, invece, di sconsigliarvi di provare la penna Sailor. Nonostante questa prova non sia un invito all'acquisto, vi posso garantire che questa penna scrive divinamente con un'altra combinazione rispetto all'inchiostro. A volte succede, questo non è stato preparato, come io non preparo mai i miei video, se non magari qualche informazione preliminare sull'oggetto, sulla casa, sui materiali che vado a presentare. Però è anche bello mettersi in gioco e magari scoprire che quello che pensavi essere un ottimo abbinamento, un ottimo prodotto, in combinazione con la stilografica, non rende quanto ti aspettassi. La cosa bella, qui allargo un attimo il discorso, del mondo della stilografica, per me è uno degli aspetti più affascinanti in tutto, ma credo di sfondare una porta aperta nel dirlo e che rispetto ad altri generi di strumenti di scrittura, l'abbinamento del pennino, del materiale di cui è fatto, dell'alimentatore, dell'inchiostro che usi, rispetto al tipo di supporto cartaceo che utilizzi, e questo al di là della mano che fa la sua parte, non esista mai una possibilità di raffronto perfetto, nel senso che le combinazioni di questi elementi sono davvero molteplici, sono tantissime le variabili che rendono poi, in bene o in male, quello che può fare una penna o che possiamo fare con una penna rispetto ad un'altra. E questo è il bello di utilizzare la penna stilografica, perché riusciamo a capire quali abbinamenti vanno bene e quali non vanno bene per un certo tipo di carta, di penna o di inchiostro. Questo è un po' il fascino del nostro mondo ed è anche la bellezza dello scrittoio, perché ci permette con il tempo magari di poter sperimentare e fare anche le nostre belle o brutte scoperte e condividerle con gli amici che ci seguono, come ho fatto io oggi, come faccio con i miei video. Per cui se avete dei suggerimenti, delle impressioni sulla penna, sull'inchiostro, sulle carte di cui vi ho parlato, eccetera, condividetele anche se non sono positive, affermative, non ne convenite, vedete quanti salti sta facendo, ma vi garantisco che normalmente questa penna non si comporta così, scrive anzi molto molto bene. Probabilmente insomma andrò a rimediare togliendo immediatamente questo tipo di inchiostro e rimettendoci magari un inchiostro sailor, piuttosto che un sailor normale, piuttosto che provarci uno dei miei Hiroshizuko di Pilot, che sono sicuramente inchiostri lubrificati, inchiostri finissimi che scrivono bene, credo di potermi sbilanciare nel dire con qualunque pennino e su qualunque supporto. Vi ringrazio ancora per l'attenzione cari amici e vi rimando al prossimo video. Ciao!